Salve, buon pomeriggio a tutti. Io sono Matteo Suavi, il CTO di Ruba Business. Oggi insieme a voi andremo a vedere lo strumento 360 Monitoring, uno strumento creato da Plesk per il monitoraggio dei siti web e dei server. Vi dico subito che se volete fare domande per quanto possibile durante la diretta cercherò di rispondere, eventualmente le domande che poi non dovessi riuscire a rispondere sicuramente sarà nostra cura andare poi a fornire le risposte in un secondo momento. Il webinar sarà registrato, quindi una volta terminato, passati un paio di giorni, verrà pubblicato sui nostri canali social. In ogni caso, se dopo il webinar doveste avere ulteriori dubbi, potete comunque fare riferimento al vostro commerciale riferimento, che sicuramente potrà aiutarvi. Allora, partiamo subito e andiamo live a vedere quelli che è il sistema di monitoraggio. Vediamo la nostra slide. Io sono già logato all'interno del pannello. Il pannello, come vi ho detto prima, è sviluppato da Plesk, ma è assolutamente agnostico, quindi funziona a prescindere dal sistema operativo e dal sito web che vogliamo andare a monitorare. Si entra in una prima dashboard dove si ha una visione di insieme di quelli che sono gli alert che si sono verificati in ultime 48 ore. Allora, io sto utilizzando il sistema monitor 360 sulla nostra produzione, quindi quello che vedete sono dati reali. Lo strumento noi lo stiamo testando da prima della pubblicazione perché siamo partner con Plesk e quindi siamo stati tra i primi a poter utilizzare il prodotto, quindi i dati che vedete sono dati reali. Per cui qui vedete appena entrati si ha subito una visione di insieme di quelle che potrebbero essere le problematiche che si sono verificate nell'ultima 48 ore su alcuni dei nostri server o siti web perché in particolare questi sono siti web. Cliccando su il dettaglio si possono vedere ulteriori dettagli, in particolare abbiamo elementi interessanti che vanno a esprimere quelle che sono le performance del nostro sito. Sulla parte destra troviamo alcune informazioni riepilogative, quindi qual è il server, qual è il nome del sito che stiamo monitorando, quando è stato l'ultimo down del sito e ho anche tutti gli elementi relativi a quelle che sono le sla del mio servizio, cioè qual è il valore del servizio che sto erogando e posso vederlo per giorno piuttosto che per mese ma anche per anno. Quindi come vi dicevo questo è attivo sui nostri server da diverso tempo e quindi è possibile rilevare le performance anche a livello annuale. E poi ho sotto un dettaglio di quelle che sono le informazioni, di quelle che sono gli incident che si sono verrate, problematiche che si sono verificate con anche il dettaglio della durata. Sopra c'è un menu che permette di andare velocemente sugli altri siti, se ne prendiamo uno a caso, vedete che non cambia niente. Posso andare a selezionare il giorno, quindi qua ho il dettaglio sul singolo giorno andando a cambiare giorno al menu di destra, piuttosto che sul mese e quindi ho l'indicazione, l'andamento sulle performance del mio server. Ho anche impostato diversi site perché è un altro elemento che è assolutamente interessante e la possibilità di andare a asserire dei monitoraggi oltre che sul default, vedete che qua il default su cui è stato creato in fase di configurazione è il site di Parigi. Io ho inserito anche Miami e Amsterdam, questo sicuramente chi ha siti che devono essere raggiunti o visitati da clienti che stanno anche all'estero è sicuramente interessante. Ho diversi site disponibili di default, non c'è da aggiungere nulla dal punto di vista del costo andando a selezionare più location, nel caso decida ad esempio di aggiungere Londra, semplicemente molto velocemente, ci mette un pochino di tempo perché chiaramente deve attivare questo monitoraggio sul site di Londra, dopodiché inizia a raccogliere i dati e ti fa vedere qual è il valore di performance. Vedete qua sta già schedulando l'attività per andare a vedere le informazioni e poi si vedrà un grafico simile a questo con l'average performance, ci mette un pochino e poi riceverai i dati. Posso andare a utilizzare i dati catturati anche per fare degli export, quindi scelgo un periodo, ad esempio 0901, voglio il mese di settembre vedere com'è andato, creo il mio report, e qua ho un file pdf che posso utilizzare per andare a analizzare più in dettaglio o fornire indicazioni, nel nostro caso magari un cliente che dovesse chiedere conto di quelle che sono state la performance di un server, posso andare a pubblicarlo e posso andare a inserire anche delle finestre di maintenance, per cui posso decidere di bloccare quello che è il mio monitoraggio in modo da andare a intaccare quella che è la sla del mio servizio, perché magari ho fatto una comunicazione che il server è in aggiornamento per due ore e quindi vado a inserire questo perimetro qua. Poi ho la possibilità di modificare i setting, che poi magari vediamo un pochino più nel dettaglio dopo quando andiamo a inserire un nuovo site di monitoraggio, però di fatto ho diverse possibilità per andare a testare la risposta del mio sito, quando sono il numero massimo di redirect che deve fare la chiamata, il nome con cui vado a interrogarlo che è visibile all'interno del mio cruscotto, ogni quando effettuare il check dove nella versione che ho scelto io, che la pro, che ho su questa installazione, che la pro, il minimo impostabile è di 60 minuti, e poi insomma altre metodologie per andare a interrogare. Questo è il default, come vi dicevo, quando si va a interrogare si va a impostare qual è il default come site di monitoraggio, poi se ne possono aggiungere degli altri. All'interno del mio cruscotto, come ho fatto vedere prima, oltre alla visione di quelli che sono gli alert dell'ultimo corattatore, ho anche delle dashboard che sono catalogate, per server piuttosto che website, quindi ho un primo cruscotto grafico su quelli che sono le performance del mio server, ma ho anche la possibilità di vendere una dashboard per quelli che sono i miei siti. Tornando sui siti che posso andare a vedere anche dal menu in alto, la differenza è che qui ottengo la lista di server, mentre dall'altra parte avevo un cruscotto grafico, piuttosto che la lista dei miei site che io sto andando a monitorare. Anche qui ho dei parametri che sono comunque interessanti, non è una dashboard grafica, però ho il carico medio, ho lo sla, l'uptime delle ultime 24 ore, piuttosto che 7, piuttosto che 30 giorni, quindi sono comunque informazioni di riepilogo interessanti. A questo punto posso andare ad aggiungere un website di esempio, così vi faccio vedere quanto è semplice, vado ad impostare un sito che io utilizzo per fare i test, vado ad inserire come campo obbligatorio un friendly name, clicchiamo esattamente allo stesso modo, e poi vado ad utilizzare, nel mio caso ho deciso di utilizzare il metodo get e andare a testare il risultato di questa pagina. Questa pagina è una pagina PHP che possiamo anche andare a vedere, nel caso in cui funzioni tutto correttamente mi istituisci il valore tutto ok. Qui dentro c'è la chiamata chiaramente al server Apache che deve rispondere, si collega al database MySQL del mio sito, fa una insert, fa una delete, e se tutto è andato correttamente restituisce il parametro tutto ok. Quindi questo mi permette di andare a monitorare tutto lo slack del mio server, è una pagina di test che abbiamo fatto noi, ma chiaramente ognuno può fare la pagina che fa, le attività che li tiene più opportuno. e utilizzare questo metodo per andare a vedere se il mio sito sta funzionando correttamente. Ora ho creato il mio sito, a questo punto posso tornare nell'elenco dei website, andare a cercarlo, e adesso lui inizierà all'accogliere i dati su quelle che sono le informazioni che gli ho fornito. Posso già che ci sono, andare a inserire il feed subito, la richiesta, prendiamo questo e lo aggiungiamo, in modo che lui va a scatturare direttamente, e inizierà a catturare i dati. Chiaramente qua non abbiamo una base storica da andare a interrogare, perché il site è appena stato inserito, però diciamo che è stato sicuramente molto semplice andare in sulle. Questo qui, del website, è un monitoraggio sicuramente, non particolarmente specifico, nel senso che non va nelle particolarità delle performance del sito, perché il valore che ti dà sono il tanto fees byte, e quanto tempo nel caricamento viene dedicato al DNS, piuttosto che al totale, però, insomma, è l'indicazione del fatto che il tuo sito sta funzionando, sta funzionando correttamente, e soprattutto hai la possibilità di fornire dei parametri di SLA per quelli che sono i tuoi servizi nei confronti dei tuoi clienti. Io ho impostato questo strumento, perché chiaramente all'interno di Ruba Business abbiamo dei strumenti di monitoraggio dei nostri server, dei nostri site, che sono strumenti interni e che sono visibili e monitorati dai nostri ragazzi del nostro team. Questo è uno strumento esterno che mi permette, da un certo punto di vista, di togliermi dall'imbarazzo del dire a un cliente che dovesse chiedermi conto di quelle che sono le performance, di poter dire che questo è uno strumento esterno, che non è all'interno della nostra rete, che quindi, se questo sito da Amsterdam piuttosto che da Parigi riesce a rilevare che il server è attivo, vuol dire che è attivo per tutti quanti, quindi se c'è un problema sul sito particolare di quel server, ti posso dire, guarda, io ti posso dimostrare che il server è RAP, quindi probabilmente è il tuo sito che vede il problema. Ecco che sono arrivati i primi dati e, come dicevo prima, c'è il phase byte, c'è il totale, il tempo di connessione e il tempo di risoluzione DNS. Lui comincia a questo punto a raccogliere tutte le statistiche e a presentarle in forma grafica. Torniamo un attimo a vedere la parte dei server, in particolare, ecco, come dicevo prima, il sistema funziona, sia che ci sia un sistema sotto Windows o Linux, qui ho impostato un sistema Linux con Plesk, piuttosto che un sistema con Windows, con Plesk, e un sistema anche con Cpanel, quindi non ha nessun problema, c'è un agente che si va a installare sul server e questo raccoglie i dati. C'è scritto, aggiungendo il server, quali sono le istruzioni per poter installare, questo codice qua è l'identificativo che va a identificare la nostra installazione del monitor in 360 e ci sono le installazioni sia per Windows che per Linux per poter andare a installare l'agente sul server. Una volta che l'agente è installato, si va e si entra nel dettaglio di quelle che sono le performance del server. Ecco, qui abbiamo una visione assolutamente molto accurata di quelle che sono le performance, quindi una prima overview dove ci sono i parametri principali di load, di memory, il disco, quelli che sono i processi, ma poi si può scendere nel dettaglio di tutte queste singole voci. Ad esempio, posso andare a vedere sul network, non è particolarmente interessante, però la memoria, andare a vedere come è sul nostro server, come è allocata la memoria, quali sono le attività e quali sono i top processi, ma ancora più interessante, torno a parte di overview, è andare a vedere la possibilità di installare dei custom plugin, cioè io posso e c'è una guida all'interno del monitor 360 dove trovo tutti gli ulteriori plugin che io posso andare all'installare che già sono forniti da monitor 360, per cui un LiveSpeed piuttosto che un MongoDB, il MySQL, l'EngineX, il PowerDNS, PHP, PFM, insomma, sono tutti plugin che sono già forniti dal sistema, ma posso andare anche a costruire dei miei plugin, quindi c'è la possibilità di inserire dei custom plugin che in autonomia uno si può sviluppare e andare a inserire all'interno del pannello per fare monitoraggi specifici di servizi che magari non sono così standard. Ecco, noi qua, l'elemento interessante che volevo farmi vedere è che ho aggiunto dei plugin per Cloud Linux, per Cloud Linux, il DB Governo e per MySQL, questi sono standard, non sono stati creati da noi, sono disponibili e forniti da 360 Monitoring. Ecco, questo è molto interessante perché nel caso in cui sul nostro server si è strato Cloud Linux, il nostro server o server del cliente, posso andare a scendere nel dettaglio e andare a vedere il singolo utente che cosa sta facendo sul mio server. Questo è interessante perché soprattutto sui server in nostra gestione, tutte queste informazioni, in realtà Cloud Linux già le fornisce all'interno anche del pannello Plesk, però solo con la gestione amministratore, quindi chi ha un server in gestione questi dati in realtà con Cloud Linux già li può vedere, ma quando siamo noi a fornire il servizio manager, quindi siamo noi ad avere gli accessi amministrativi del server, il cliente non ha la possibilità di vedere questi dati. Ecco, con un strumento come questo è possibile andare a vedere in forma grafica e capire che cosa stanno facendo i propri clienti. Su qua chiaramente i nomi non sono interessanti perché noi definiamo dei nomi univoci per non identificare l'utente e per fare in modo che non si esibili con problematiche di sovrapposizione di nomi, ma in realtà se qua ci fosse l'FTP del sito A, sito B, sito C, io andrei a vedere quel cliente che cosa sta facendo in termini di utilizzo di memoria, piuttosto che IO, piuttosto che CPU, quindi vedete, qui posso andare a vedere chi è che sta facendo, sta utilizzando più risorse all'interno del mio server, ecco che nel caso in cui io abbia definito dei piani potrei andare dal mio cliente e dire guarda tu sei nel piano base, però visto che hai molte visite e il tuo sito sta occupando molte risorse quindi bisogna che passi il piano advanced dove magari le caratteristiche sono più importanti. lo stesso lato di Big Governor e MySQL quindi ho la possibilità di scegliere in dettaglio anche vedere queste informazioni sul MySQL oltre come dicevo prima memoria, la CPU, il disco e i processi quindi se ho un applicativo mio particolare che voglio monitorare alcuni elementi posso costruire la mia sonda. Qui ho la possibilità di andare anche a interrogare lo storico quindi a differenza di prima dove semplicemente vedevo un grafico con tre informazioni qua tutte le informazioni sono storicizzate quindi se voglio vedere il 4 di settembre cos'era successo perché magari c'è stato un problema e ho bisogno di fare un'analisi più di dettaglio su quel giorno ecco che qui ho tutto il dettaglio e le informazioni di quel giorno con tutte le mie CPU e tutti quelli che sono gli elementi che può monitorare il sistema. oltre a questo sulla parte del server ho anche tutta una serie di alert che posso andare a configurare quindi io ho manage degli alert per andare a attivare e disattivare gli alert che io ho costruito nella parte superiore ho tutta la configurazione degli alert ok questo qui sono quelli che ho configurato io vedete che qua ci sono un esempio se nel caso in cui il carico della superiore media sia superiore al 85% per 10 minuti notifica a questi canali questo è l'elemento interessante è proprio un elemento di valore aggiunto secondo me di questo strumento dove senza nessun costo aggiuntivo ti fornisce una serie di canali e sono tutti parametrici e posso andare a impostare sul singolo alert quindi nel caso in cui ad esempio ci sia un carico elevato di CPU o di spazio disco posso andare a utilizzare un canale piuttosto che l'altro per un altro canale e questo questo canale questo contatto scusate ha la possibilità di configurare tutti questi canali di comunicazione quindi manda un'email manda un sms manda un messaggio su telegram pubblica l'informazione su google chat piuttosto che slack o microsoft 365 insomma sono strumenti che ti permettono di avere un'interattività anche già l'sms voglio dire è chiaro che se ti arrivi un alert come sms di notte può essere diverso dalla mail però insomma un telegram o uno slack che può arrivare un messaggio anche un gruppo è sicuramente un elemento molto interessante che offre senza nessun costo aggiuntivo e che sicuramente merita di essere sfruttato l'altra pagina l'altra cosa interessante è la possibilità di costruire delle pagine dove pubblicare quello che è l'andamento dei propri servizi quindi se uno va a configurare dopo magari vi faccio vedere quali server o quali siti vuole pubblicare ha gratuitamente andando potendo personalizzare anche il nome quello che è lo stato di app dei propri servizi ed entrare anche nel dettaglio del singolo server ci sono due modalità di visualizzazione questa è una l'altra è ad esempio su questa qua dove è un pochino più grafica quindi vedo da subito il grafico e posso comunque entrare nel dettaglio la configurazione è veramente molto semplice se vado a modificarla io ho la la quattro parametri veramente dove vado a mettere il titolo un eventuale logo e un colore di sfondo una password nel caso voglio decidere di proteggere questo sito con la password e poi ho tutti i miei website che vado semplicemente ad aggiungere all'interno della mia pagina lui automaticamente prende tutti i siti che ho indicato come da inserire nel mio sistema di monitoraggio e mi va a pubblicare questa pagina è un elemento carino per chi decide di dare visibilità ai propri siti ai propri strumenti o anche a se stesso perché no può essere anche uno strumento interno un'altra funzionalità che è stata inserita ve lo faccio vedere non su questo perché sulla licenza che ho appunto sulla produzione non ce l'ho ma abbiamo anche la versione business dopo vi faccio vedere qual è la versione e questo è esattamente lo stesso soltanto che qua ho la possibilità di utilizzare anche il full site check e il block list block list è una funzionalità nuova appena rilasciata allora il full site check a differenza del site check che abbiamo visto prima dove va a monitorare una specifica pagina può andare a verificare diverse informazioni sul sito andando anche in profondità andando a testare quelli che sono i link all'interno del mio sito per andare a vedere se ci sono delle mancanze se un sito magari che un link che noi abbiamo pubblicato non è più raggiungibile per cui ad esempio fa check su javascript fa check su google font verifica se mancano delle immagini o ci sono dei link che non sono più raggiungibili e verifica anche se ci sono pagine di dimensioni troppo elevate perché io ne ho lanciato uno prima per fare la prova sempre sul mio sito di test e ti va a generare ad esempio si è accorto che all'interno del mio sito c'è un sito che non è più un link che non è più raggiungibile e che quindi teoricamente il cliente può andare a correggere un altro elemento interessante soprattutto per chi ha all'interno del proprio server la parte la parte di mailing il check delle block list questo è interessante perché andando semplicemente ad aggiungere l'ip del server il servizio va a verificare tutte queste liste qua che sono la liste principale di black list nel caso l'ip finisca finisca in una di queste liste e ti manda un alert nel momento in cui entra all'interno di queste liste per cui se l'ho fatto prima ancora purtroppo non ci sono date o per fortuna perché magari l'ip è pulito quindi non ci sono problematiche di sorte però questo è un servizio veramente molto importante ti accorgi in anticipo se il tuo sito web se c'è qualche dominio che magari è stato buccato e che sta inviando spam puoi intervenire perché immediatamente ti rendi conto se c'è qualche problematica vediamo se ci sono delle domande no perfetto allora volevo farvi vedere un ultimo aspetto che è quello delle versioni che noi abbiamo a disposizione in questo momento su monitor 360 che si può comprare dal nostro pannello admin abbiamo a disposizione la versione pro business enterprise esiste anche una versione light che permette non a pagamento ma che ha caratteristiche tali che non sono dal nostro punto di vista utili per le nostre categorie di clienti però in ogni caso se volete andare a provarlo e non c'è nessun problema da questo punto di vista tenete comunque presente che noi abbiamo messo attualmente in prova per un mese senza costi le tre versioni che abbiamo a disposizione le caratteristiche sono quasi più o meno le stesse quello che cambia è il numero di server che posso andare a monitorare compresi nella versione quindi nella versione pro dove si parla di 2 euro 60 più IVA al mese abbiamo già la possibilità di monitorare un server e 20 siti web magari i più critici l'intervallo di tempo non cambia quindi a prescindere la versione il minimo tempo monitorabile è sempre di 60 secondi quello che cambia è la parte di 6 check che ho fatto vedere prima quindi il fatto di andare a monitorare la possibilità di schedulare il check sui siti la profondità degli URL che le sonde vanno a testare quindi se è un sito molto ampio è chiaro che lui inizia a fare lo spider e andare a seguire i link per una profondità che nel caso della pro arriva a 500 piuttosto che 1000 piuttosto che 1500 e può fare anche più task in parallelo nel caso della versione business ognuna di queste versioni quindi non è possibile passare dalla pro alla business ma è possibile aggiungere ulteriori site quindi io ho bisogno di monitorare 21 siti per la somma di 10 centesimi posso andare ad aggiungere un ulteriore sito e posso andare ad aggiungere anche i server monitorati al costo di 0,62 centesimi dopo poi a seconda esigenza del cliente si va a vedere qual è la versione però ecco nel caso in cui si passi da versione pro a versione business non è possibile fare un travaso bisogna inserire i dati esiste una funzione di import dei website ma è molto minimale è molto minimale c'è nel bulk insert dove vai a inserire tutti i siti così ma poi devi comunque andare a impostare i parametri di default quindi la modalità di interrogazione per cui quantomeno diciamo così permette di inserire velocemente i server e poi sono da andare a configurare nel dettaglio e non vedo sì vedo qualche domanda vediamo se riusciamo a allora è possibile attivare il 360 monitoring la domanda è posso attivarlo anche su server cloud Plesk è necessario allora posso andare ad attivare il monitor 360 sia su server fisici che su server virtuali non è assolutamente un problema qui abbiamo come vi facevo vedere prima le istruzioni per installarlo quindi basta che sia un sistema operativo Linux o un sistema operativo Windows non è necessario avere Plesk tant'è che questo qua è un server con cpanel ma posso anche non avere nessun pannello funziona correttamente e anche su il server con cpanel funziona il plugin con cloud Linux e vedo chiaramente tutti i parametri quindi non è un problema si possono aumentare anche i server cloud sì assolutamente anche se sono di fornitori diversi non c'è problema neanche in questo senso cioè la licenza in questo caso si compra da noi si va a inserire il server e non è importante che sia un server di Aruba per cui il server potete averlo in qualsiasi dislocazione fisico cloud e qualsiasi fornitore per cui non c'è nessun vincolo da questo punto di vista il monitor 360 è semplicemente un strumento sviluppato da Plesk ma non pone vincoli da questo punto di vista e allora un'altra domanda è possibile monitorare il fault allora probabilmente di default no può darsi che sia necessario fare un custom plugin quindi i valori di default che si possono monitorare sul disco sono la capacità e la capacità quindi anche in termini di riempimento di utilizzo del disco quali sono le transazioni ma di default non è fornito il controllo del ride però sicuramente è possibile sfruttare un plugin custom e andare a utilizzarlo per 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 vedere insomma nel caso in cui un disco vada vada in fault ok chiaramente anche nella versione come dicevo prima io qua non ho la versione business e quindi non posso utilizzare il block list che è il monitoraggio dell'ip per vedere se sono finite nelle black list però posso fare upgrade per poter utilizzare per poter utilizzare la versione che lo comprende chiaramente come dicevo prima è necessario di inserire tutti i server e i site per cui ecco magari facciamo attenzione nella scelta se riteniamo che la parte di blocking sia interessante probabilmente può essere meglio partire con la versione business piuttosto che con la versione enterprise ok io vedo che non arrivano altre domande quindi a questo punto eventualmente vi ricordo che la sessione è registrata quindi anche se avete ulteriori dubbi quando doveste rivedere la sessione potete comunque fare riferimento ai nostri commerciali vi ringrazio per aver partecipato e ci vediamo al prossimo webinar grazie a tutti e buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti